Sì, grazie per la linea. Dunque, dubbio Memushay. Oggi il centrocampista albanese si è allenato, ma è alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Dunque, rimane in dubbio. Out Campagnaro non ci sarà Brugman, causa squalifica. Naturalmente è il mercato a tenere banco in questi giorni. La chiusura giovedì prossimo alle 23. Tre tentativo per Montalto della Cremonese, ma patron Arvedi ha posto il veto per Ceravolo. Il Parma chiede 500 mila euro per il prestito. Si torna anche a parlare di Melchiorri. Sfumati, invece, Tuminello e Trotta. Per Scamacca si vedrà. Naturalmente ne abbiamo parlato con Beppe Pillon, che ha continuato a ripetere. Ho già parlato con la società che sa quello che serve. Naturalmente si muoverà il club biancazzurro in base alle proprie esigenze. Andiamo ad ascoltare il tecnico di Preganziol. La squadra sta per partire alla volta di Coverciano. Domani seduta di rifinitura. Sentiamo Pillon. All'altro ieri avete fatto il punto. C'è stato un vertice in mattinata. Come vai? Eh, lo so. Soprattutto qua che avete le spie. Se passiamo a Milano all'indomani avete fatto niente di clamoroso. No, voglio dire, però di che cosa avete parlato? Perché avete fissato delle... Se abbiamo mangiato bene... Eh, no, perché infatti... No, un vertice tecnico. Quindi avete fissato degli obiettivi, immagino. È chiaro che se ci troviamo abbiamo parlato di mercato. Però non è che posso venire qua a dire cosa ci diciamo fra noi tre, insomma. Comunque lei ha ribadito l'esigenza di una punta? Ho detto, è andato via Cocco, deve arrivare un altro giocatore al posto di Cocco. È andato via, non è ancora andato via perché è ancora qui. Ad esempio lei ha chiesto anche un esterno con più gol. È una domanda lecita. Io ho chiesto solo quelle... Manno via due e due devono... Cioè due che cosa? Due attaccanti centrale? È andato via Fornasiani e vado a Bettella. Ma via Cocco e arrivano... Poi se arriva... Ma via Monachello, prende un'altra punta, ma via del Sole e prende un'altra esterna. Io Monachello e che andasse via non l'ho mai detto. Io non l'ho mai detto. No, però lei è molto chiaro, però la domanda è altresì chiara, perché un conto è dire se esce un esterno lo rimpiazziamo con un esterno. Altra cosa è dire ho bisogno di un esterno che faccia più gol. Un po' diverso, eh? Sì, ma ripeto, le mie esigenze le ho dette. Poi il mercato è strano. Può capitare un'occasione importante e allora la piglia il volo. Bisogna stabilire se si vuole fare o meno il salto di qualità, mister, no? Perché se vuoi fare il salto di qualità serve qualcosa di diverso. Meno male che avevi detto che non parlavi di mercato. No, vabbè, però... Io non volevo parlare di mercato. Ho lanciato l'assist Giovanni. Il mercato non è facile, come sembra. E anche le società, a volte, non fanno le scelte di fare il passo, come se a casa mia si dice dietro la gamba, cioè fare il passo che si può fare. Cioè, bisogna tenere conto di tutte le cose. Io, società, io lavoro con quelli che non mi sono mai lamentato di niente. Ho sempre lavorato e continuerò a farlo come ho sempre fatto. Poi, quando si può fare una cosa, si fa. Se non si può, io non ho i soldi da prendere. Ed è tutto dal poggio degli olivi. La linea può tornare a te.